Cos'è realmente il caso di Attilio? Quanta importanza ha nella ricostruzione storica giudiziaria del nostro Paese? Non siamo in attesa della riapertura delle indagini, siamo in attesa del completamento delle indagini che sono in corso presso la Procura di Roma, a cui ci rivolgemmo quasi un anno fa e naturalmente aspettiamo con ovvia attenzione che trovino per una volta finalmente l'esito che noi riteniamo doveroso, quella dell'individuazione dei responsabili di un omicidio, perché quello di Attilio Manca è stato un omicidio in modo incontrovertibile, come dimostrato da documenti, da fonti di prova di tanti tipi, ma come dimostrato dalle immagini del cadavere di Attilio Manca, basta guardare e si capisce che si è trattato di un omicidio, le ragioni di quell'omicidio toccano due snodi bui e dolorosi della storia della mafia e della mancata repressione di alcune esperienze mafiose. Le due espressioni sono la mafia di Barcellona Pozzo di Gotto, che storicamente ha liason a livelli altissimi con apparati dello Stato, che siano istituzioni giudiziarie, che siano istituzioni di polizia, che siano organismi dei servizi segreti, che siano politica, che siano potere delle amministrazioni. E in secondo luogo il grande finto mistero della quarantennale, ultra quarantennale, latitanza di Bernardo Provenzano, con una grande operazione di mistificazione e propaganda insieme, si è voluto far credere agli italiani che i decenni di latitanza di Bernardo Provenzano siano stati da lui trascorsi in quelle condizioni davvero pericolanti del vecchietto catturato a Montagna dei Cavalli nel 2006, dove alloggiava in una baracca e si cibava di ricotta e cicoria. Naturalmente non è quella la storia della latitanza di Bernardo Provenzano. La storia della latitanza di Bernardo Provenzano è la storia di un mafioso che ha avuto relazioni con apparati dello Stato e che addirittura ha stretto, come attestato perfino da sentenze, come accertato in processi, ha stretto accordi con esponenti delle istituzioni, che ne ha goduto dei benefici, sacrificando una parte di Cosa Nostra con l'arresto di Salvatore e Vina il 15 gennaio del 1993 e usufruendo anche per questo di una leggiadria durante la sua latitanza che non è veramente in alcun modo giustificabile se non attraverso le protezioni di cui ha goduto. Purtroppo nella vita di Attilio Manca il destino lo portò a contatto con le esigenze sanitarie di Bernardo Provenzano. Nel 2003 gli venne trovato un tumore alla prostata. Attilio Manca era un eccellente urologo specializzato nel tumore alla prostata, specializzato nell'asportazione del tumore alla prostata. Abbiamo trovato documentazione che comprova la presenza di Attilio Manca in Francia, nella parte della Francia in cui poi finì a curarsi Bernardo Provenzano, proprio nel momento in cui si stava programmando la trasferta di Bernardo Provenzano in Francia. Abbiamo trovato ancora altra documentazione che comprova le parole di numerosi ormai collaboratori di giustizia che hanno riferito che quello di Attilio Manca è stato un omicidio collegato alla protezione della latitanza di Bernardo Provenzano. Per una volta la Commissione parlamentare antimafia nella passata legislatura ha concluso l'inchiesta sull'omicidio Manca con una relazione approvata all'unanimità, per una volta arrivando prima e meglio della magistratura, attestando nella sua relazione conclusiva che quello di Attilio Manca è stato un omicidio, è stato un omicidio che ha visto coinvolta la mafia di Barcellona Pozzo di Gotto e i suoi addentellati istituzionali e che aveva quale finalità? Quella di coprire i misteri, cioè le relazioni con l'esterno establishment di Bernardo Provenzano durante la sua latitanza. Il nostro auspicio con il doveroso ottimismo che deve nutrire il nostro operato quando attendiamo le risposte degli organi istituzionali è che queste verità finalmente siano riconosciute dall'operato della magistratura. Non c'è da individuare, da scoprire una verità, la verità già la sappiamo, bisogna che aspettiamo che la giustizia finalmente abbia il coraggio di riconoscerla.